Quella di ieri è stata una domenica di fiamme nel Salernitano. 27 gli incendi di grandi dimensioni che hanno bruciato oltre 100 ettari di bosco, macchia mediterranea e colture. Quello più rilevante ad Ascea nella frazione di Santa Maria. Ci sono stati anche momenti di tensione e paura per le fiamme che hanno lambito alcune abitazioni, villaggi e strutture della zona, alcune delle quali sono state evacuate per precauzione. Tutto è tornato nella normalità dopo diverse ore di lavoro. Dei vigili del fuoco, dei distaccamenti di Agropoli, Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, sei le squadre inviate. In azione anche elicotteri antincendio ed i volontari della protezione civile, oltre agli operai della comunità montana Bussento, Lambro e Mincardo. L'incendio scorpiato nella tarda mattinata di domenica ha distrutto 50 ettari di vegetazione, macchia mediterranea, olivetti e vigneti. Danni ingenti ancora non stimati, come sconosciuti al momento sono le cause del rugo. Non si esclude il dolo. Fiamme anche nel Vallo di Diano, sempre nel pomeriggio di domenica si sono sviluppati altri incendi. Il primo a Teggiano in un campo agricolo, il secondo a Sala Consilina. Solo grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio boschivo della comunità montana Valle di Diano si è riusciti ad evitare il peggio. Un bilancio grave è quello dei rughi che hanno interessato la provincia di Salerno, con situazione di emergenza anche sulla strada provinciale che collega San Mango Piemonte a San Cipriano Picentino. Anche qui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Chiusa la strada provinciale che collega i due comuni, riaperta dopo la verifica geostatica del costone interessato dall'incendio, con i rocciatori che hanno rimosso detriti e pietre in bilico.